Si parla di diritti e la libertà di non vaccinarsi, per lei è un diritto? Io sono per la libertà. Ci sono anche la libertà di vaccinarsi, mi sembra che il Green Pass che avete votato oggi alla Camera è contro la libertà della scelta vaccinale. C'è la libertà di non vaccinarsi? Siamo per la libertà vaccinale. Se avete votato a Camera oggi a favore del Green Pass. E ho appena detto che io sono per la libertà vaccinale. Come mai ha votato la Lega oggi a favore del Green Pass che non dà la libertà vaccinale perché in un modo subito l'obbdica i lavoratori a tamponarci tutti i giorni. In alcuni settori come le case di riposo occorre essere estremamente cauti perché si ha a che fare con persone fragili. Io ricordo che qualcuno pensava di portare al Consiglio dei Ministri l'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato e addirittura per il trasporto pubblico trama, autobus e metropolitane. Ecco, grazie alla Lega questo non è. Neanche in Camera e in Senato infatti non c'è Green Pass. Lì i deputati e i senatori sono liberi e noi invece non siamo tantissimi. Dunque grazie allo stesso è stato gentile a rispondere. Grazie a lei, ci mancherebbe altro.